Sono ancora evidenti a Giarri in alcune frazioni i danni provocati dalle raffiche di vento dello scorso giovedì. Il Comune con il supporto di una ditta esterna ha effettuato diversi interventi di messa in sicurezza con la rimozione di arbusti precipitati sulla sede stradale provocando pesanti disagi alla circolazione. Interventi parziali invece nella Bambinopoli di Piazza Immacolata a ridosso della scuola media Giovanni Verga. All'interno dell'area perimetrale della scuola si è battuto tranciando la recinzione anche un palo della pubblica illuminazione che è stato comunque disattivato e poi rimosso per ragione di sicurezza. Le operazioni comunque nei pressi della scuola tuttavia come dicevamo sono rimaste incomplete. Alcuni arbusti dell'area verde comunale non sono stati ancora tranciati o capitozzati e rimangono anche sulla sede stradale. In merito la dirigente scolastica Rossana Maletta stamane con la ripresa delle lezioni ha disposto che gli alunni entrassero dall'ingresso principale che si affaccia sulla via Garibaldi. In città sono comunque numerosi ancora gli arbusti da rimuovere. Questa mattina sono in corso le operazioni di ripristino di alcuni pali di telefonia che erano stati abbattuti dal vento lungo la strada 75 all'ingresso dell'abitato della frazione giarese di Miscarello. Altri disagi indirettamente connessi al forte vento lo scorso giovedì riguardano anche le condutture idriche. Nel quartiere popolare satellite non è stata infatti ancora riparata la perdita di acqua pubblica causata dal movimento delle radici di un albero pericolante. Dallo scorso giovedì l'acqua si riversa copiosamente sul biale Don Minzoni e la paralisi della viabilità determinata dalla presenza di arbusti ancora una volta isolato Giarre con il suo ospedale privo di pronto soccorso. Sulla vicenda nei giorni scorsi è intervenuto anche il comitato civico Rivoiamo l'ospedale che ha manifestato preoccupazione anche sulla piena funzionalità dell'elipista dello stadio di atletica. Dal canto suo il sindaco di Giarre Angelo Danna invece nella veste di presidente del comitato dei sindaci del distretto sociosanitario ha inviato una nota urgente al presidente della regione Nello Musumeci e per conoscenza al prefetto di Catania. A causa dei forti venti di Burasca si legge nella missiva si sono verificati i rallentamenti sino all'arresto della marcia sull'autostrada A18. A seguito di tale chiusura i flussi veicolari sulla statale 114 e le arterie complementari hanno subito forti rallentamenti rispetto alla normale circolazione ostacolando analogamente le altre bie di accesso con conseguenziali code chilometriche che hanno di fatto impedito la possibilità di un tempestivo raggiungimento della struttura ospedaliera di Aciriale e il ricorso all'annesso pronto soccorso. Si è palesata dunque ancora una volta, rimarcato il sindaco nella nota, la necessità di rifunzionalizzare l'ospedale Sant'Isidoro di Giarre ripristinando in primis il pronto soccorso con i servizi annessi ad un ospedale di base coerentemente alla normativa vigente dando anche sicurezza e tempestività di intervento anche in condizioni avverse ad un territorio correlato ad un bacino di utenza di circa 90.000 residenti.